Nuovo personale per la questura, la polizia stradale, la scuola allievi agenti a Piacenza. L'ha annunciato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni in un incontro con le istituzioni del capoluogo emiliano. Molteni ha detto inoltre che presto arriveranno nuove risorse sui territori per garantire maggiore sicurezza dei cittadini. Il fatto che ieri il ministro abbia firmato un fondo, il fondo per la sicurezza urbana, 65 milioni di euro, con progettualità che vanno a beneficio dei territori per contrastare con le forme di insicurezza urbana che creano ovviamente sicurezza tra i cittadini. Nuovi fondi sono stati annunciati anche per potenziare la videosorveglianza. Molteni, riferendosi poi ai problemi registrati nel settore della logistica, ha detto che le manifestazioni si devono tenere nel rispetto della legalità per evitare che la questione diventi una vera e propria bomba sociale. Dopo aver annunciato che a breve il taser potrà essere messo a disposizione delle forze di polizia, il sottosegretario ha commentato la sentenza del Tribunale di Piacenza che ha condannato cinque carabinieri della caserma Levante. Chi sbaglia paga. L'arma è un corpo sano, è un corpo fondamentale per garantire sicurezza e controllo del territorio. L'errore o i crimini di pochi non possono ricadere sull'intero comparto.